E c'è una bella iniziativa di Estra, si chiama Energicamente, in pratica è una scuola di energie rinnovabili. Rachele Campi. Al via la sesta edizione di Energicamente, il grande laboratorio didattico patrocinato dalla Regione Toscana e ideato da Estra, in collaborazione con Lega Ambiente, l'editore Giunti e i libri progetti educativi che promuove nelle scuole la cultura del risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Il progetto coinvolge più di 6200 ragazzi delle scuole medie e delle classi della Quinta per le scuole elementari di Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria. L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare gli stili di vita e informare i giovani e le loro famiglie sulle energie rinnovabili e sull'uso razionale dell'energia in ambito domestico. È un'azienda nata nel territorio ma che si è sviluppata a livello nazionale, nelle Marche, nell'Abruzzo, in Molise e in Umbria. E coinvolgiamo assieme a Lega Ambiente, all'importante editore Giunti, in questo progetto energicamente che sviluppa la cultura dell'ambiente e la seconda partendo dai più giovani che rappresentano il futuro su cui vogliamo investire. 250 i percorsi didattici, 18 i laboratori teatrali dal titolo Energia del Teatro. A maggio la premiazione di due concorsi dal titolo Re-Energy e Green Pirates. Stiamo lavorando come regione toscana al piano per la qualità dell'area, l'educazione ambientale sarà una leva e un'azione fondamentale, già ereditiamo in qualche modo e ci inseriamo in un percorso assolutamente impegnato e solido da portare avanti. Ogni studente riceverà un kit didattico, un libretto che informa sulle varie energie e i suoi modi per utilizzarle e ogni insegnante una guida sull'energia. La risposta che abbiamo dai ragazzi è, lo dico sempre, è unica e irripetibile. Ogni classe, ogni scuola, ogni ragazzo interpreta energicamente alla sua maniera e ci restituisce e quindi ci dà una connotazione particolare, peculiare, che ce lo fa diventare poi diverso ogni anno. Quindi voglia dei format, cioè i format sono un, lo dico sempre, un spartito, però la musica poi spessissimo la suonano i ragazzi.